Ciao a tutti! Vi ricordate quando vi ho fatto vedere Calton Hill? Vi avevo parlato del vecchio osservatorio ma non ho potuto farvi vedere molto perché è completamente chiuso da anni. Per un paio di mesi quest'estate è stata esposta un'opera d'arte che funziona benissimo anche da impalcatura. Ovviamente non mi sono fermato sotto ma sono salito in cima per riuscire a sbirciare oltre il muro. Ed ecco la facciata principale al completo. Non mi aspettavo degli scalini che salgono verso l'entrata né tantomeno una panchina ormai inutilizzabile. Uno dei piani per il prossimo futuro è di riaprire l'osservatorio e utilizzarlo come spazio per esposizioni d'arte. Nel frattempo godiamoci la vista sulla città da questa struttura transitoria. Alla prossima!